Cinque cittadini romeni, tre uomini e due donne, sono stati denunciati in stato di libertà per furto in due negozi della bassa Valtellina. I carabinieri della stazione di Morbegno sono intervenuti il 25 settembre scorso a seguito di una richiesta di intervento all'interno di un supermercato di Cosio Valtellino, dove due donne si erano aggirate con fare sospetto tra gli scaffali, tra la confusione generata dai propri figli, per poi allontanarsi senza aver acquistato nulla. Ai militari della stazione carabiniere di Morbegno si sono affiancati quelli della sezione radiomobile, che nel piazzale del supermercato hanno fermato un'auto con all'interno due donne e tre uomini con due bambini piccoli di nazionalità romena che si stavano allontanando. I controlli di rito e una perquisizione del veicolo hanno permesso di rinvenire nel bagagliaio numerosi prodotti per la pulizia della casa. Dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza gli agenti hanno potuto accertare che parte dei prodotti era stata sottratta proprio dal supermercato di Cosio Valtellino, nascosta all'interno di due passeggini per bambini per eludere i controlli di sicurezza. L'analisi della merce ritrovata ha permesso di verificare che un'altra parte era stata rubata poco prima all'interno di un altro esercizio della stessa catena commerciale, sito nel comune di Piantedo. I filmati delle telecamere del supermercato di Piantedo hanno permesso agli inquirenti di ricostruire lo stesso modus operandi. I cinque stranieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto, mentre la merce rinvenuta di un valore complessivo di circa 1000 euro è stata restituita ai supermercati.